A tre giorni dall'evacuazione arrivano le indicazioni alla cittadinanza del coordinatore della protezione civile di Battipaglia, Michele Mattia. La macchina organizzativa sta lavorando alla cremente per arrivare preparata a domenica, giorno in cui ben 36.000 battipagliesi dovranno lasciare le proprie case per permettere il disinnesco in sicurezza dell'ordigno bellico ritrovato in località Spineta. Dalle ore 5 alle ore 8 ci sarà la fase di evacuazione della zona russa. I cittadini dovranno evacuare dai propri civici, verranno invitati dalle forze di polizia e dai volontari della protezione civile con messaggi sonori in tutta l'area coinvolta dall'evacuazione, tutta la zona russa. Quindi bisogna rispettare questo orario perché concluse l'evacuazione inizieranno subito le operazioni da parte dell'esercito e quindi prima inizieranno, prima si concluderanno e prima potremo fare rientro nelle nostre abitazioni. Questione sicurezza, come tranquillizziamo i cittadini coinvolti? La questura di Salerno con il coordinamento della prefettura di Salerno hanno fatto un piano specifico per la sicurezza. Ci saranno 500 uomini durante ogni turno di lavoro di 6 ore che presideranno addirittura con l'impegno di droni tutta la zona russa che è stata evacuata. A fine di garantire la sicurezza dei beni lasciati dai propri cittadini. La strada abbandonata, il rudere abbandonato che i cittadini temono che possono essere basi di appoggio, di malintenzionati, sono già zone attenzionate, sono a conoscenza delle forze di polizia dal loro punto di vista, sono a conoscenza da parte nostra per gli ingenti di microdiscariche che succedono durante tutto l'anno, quindi già ne sono a conoscenza tutti, dove non arriva l'uomo arriva la tecnologia.